Allora, l'afflato con cui molte parti di questo EP è stato sentito, pensato, costruito, penso che non sia tanto diverso da Miracolo a Milano di De Sica. Ovviamente con le dovute differenze, quello è un capolavoro, questo invece è un tentativo. La differenza tra i maestri e gli apprendisti sta proprio appunto nella maestria, nel trattare le cose. Io e i miei compagni ci sentiamo decisamente apprendisti, però è così, l'afflato è lo stesso e il mio intendimento sta proprio nel cercare l'ingenuità anche dove ormai, come questo mondo ci insegna, c'è tanto competizione, volontà di prevedicazione. Perciò sì, Miracolo a Milano sicuramente. Una volta ero molto dedito, perché le intuizioni dei cineasti mi hanno sempre portato a cambiare la prospettiva del mio sguardo sul mondo. Però da qualche anno a questa parte sono più dedito alla crescita di mia figlia e perciò negli ultimi anni semplicemente guardo fuori dalla finestra e guardo le creazioni rispetto all'essenzialità della vita di Anna, mia figlia, e questo è molto più, ha un aspetto di suggerimento molto, molto grande per me in questo momento. Devo dire che molte delle stratificazioni del poco che so, anzi del poco che non so, dovrei dire, è esattamente legata al mondo della cinematografia e mi viene da pensare a Tarkovsky, ma per certi versi in maniera identica dal punto di vista della potenza evocativa, ma completamente diversa nell'espressione Jacques Tati. Ecco, voglio dire, Solo Fiori ha molto a che vedere con Missioulo, è come una riproposizione della vita reale, ma traslata nel fantastico. Ecco. Sono un uomo antico e perciò mi viene da pensare a Public, perché o a Lynch, però lui se le fa da sole, perciò e sicuramente per l'altro farebbe molto meglio di quanto le farei io. Però Kubrick mi ha sempre affascinato per l'aspetto di trascendenza che ha rispetto a ciò che legge per poi fare un film, o ha letto per poi fare un film, per scrivere il soggetto, eccetera. In quella dimensione io e i miei compagni, nel nostro articolo potremmo fare così. Addio, una grande galleria, una grande galleria, nel mio panteo una grande galleria. Però forse il mio film preferito, e c'erano molte in America, di Sergio Leone, perché racchiude infinite volte il senso di cercare la posizione proprio nel mondo, doverla negare e dover attendere. È un film che ogni volta, anche grazie al nostro nome di Morricone, mi commuove, ecco, semplicemente.